Su questo territorio ci sono ancora importanti possibilità di occupazione, è evidente che le aziende cercano determinati profili e a seconda dell'attitudine di studio dei ragazzi io ritengo che debbano essere indirizzati verso quei profili perché oggi c'è ancora possibilità di trovare occupazione, buona occupazione nelle fabbriche caierese. In questo territorio per esempio ci sono molte aziende meccaniche che cercano profili di alta specializzazione nell'ambito della meccanica, questo è un elemento ad esempio da tenere molto in considerazione. Cercare di approfondire gli studi tecnici, gli studi scientifici perché secondo noi sono quelli che possono aprire nuovi orizzonti anche in termini di possibilità occupazionali all'interno delle aziende sempre più tecnologicamente avanzate che sono presenti nella nostra provincia.